e vai ragazzi si riparte mamma mia quant'era non si ripartiva presto si indovinate indovinate dove si va oggi infatti se ne buscare tutto bene tutto bene oggi si va a vedere i tartufi e vai ragazzi e vai 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 ma chi ci ferma anche questa esperienza si va a fare grazie a un amico con il cane via 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 vanta 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 ora vupetrese speriamo bene ciao 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 s'colla on la mila s'colla on la mila prego prego una s'colla on la mila grazie e un cappuccino buongiorno vai ragazzi vai vai avanti 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 con la sfogliatina alla mila è una buona guardate belli i colori dell'alba ragazzi guardate qua e due cipressi sempre bella questa rotonda c'è nulla a fare e vai avanti 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 e via non male eh non male non male questi colori dov'è? chi c'è? grazie caro animale animale vieni Zara andiamo vieni su andiamo qua dai su vieni via dai su ok dai ու voi ce ecco avanti vieni questo ma guarda ragazzi si chiama il mazzara ma guarda ragazzi vedi come fanno piccini parecchi ma e questo è che tipo di è? un marzolo no questo è un marzolo è anche sotto il cibo si è trovato tutto in questo modo fermo qui non è questo non è questo che fa? se la vado a mangiare ci vedi si 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 sputa l'osso si 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 bravo, bravo l'ho bello è preso l'ho bello è preso guarda che tu raspita vedi no 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 qui citta su citta guarda qui citta stiamo vedi vai non è mai dar vedi dici ciao avevi visto come la caccia Zara vieni qua, dove è Zara? dove è Zara? vieni qua, vieni qua, vieni qua vieni qua, vieni qua che piccino forte che sa non è maturo bene, non è piccino forte non ci faccia così, ma è un bravo così bello invece non è vieni qua, vieni qua vieni qua vieni qua, vieni qua 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 Dov'è? Eccolo, adesso è questo. Adesso è questo. Anderai. Eh, è bravo. Guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Mi trova di piccino. Guarda. Grazie. 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 Brava. Brava. Glorale. Vediamo il resto. E sono così. Quel commento,av customers. guarda i saloni tutti avanti, avanti, avanti ragazzi vieni qua Zara grande Zara, non ha l'ottontina, Zara arriva prima di Zara brava brava brava, 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 brava brava, brava brava, brava brava, brava, brava brava, brava, brava brava, brava brava, brava Sì, qui, 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 qui. c'è un altro che guarda ragazzi si conclude questa uscita a tartufi un angiolino eccolo eccolo fantastico e vai quando ci entrano, il mattino era pieno zeppo infatti non c'è lì, perché qui c'è il pallino c'è il pallino perché non dà più tempo non se ne trovai punti quelle di stamattina e vai ragazzi si conclude questa giornata fantastica alla ricerca di tartufi mamma mia guardate che posti bellissimi favolosi i di tartufi non ce ne ero tantissimo qualcuno si è trovato tutti molto piccolini però Zara è stata fantastica una canina stratosferica e vai grazie angiolino avanti 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 per questo grazie ecco che ho detto che c'è da fare c'è da fare c'è da fare c'è da fare E lo so, lo so. Mi piace ricchi di Dio. In dove li metti, aspetta. No, no, aspetta, piglio un po' di scotch e sedate. Ti metto l'interno. Tu sai come si fanno questi? Dimmelo, dimmelo. Ora ho piatti in dove metterli, dai. Guarda qua, guarda qua il raccordo di oggi. Che profumo. Per te stai più bello si è trovato. Grande, Angiolino. Tartuffi. Semboloni. Che spettacolo, ragazzi. Avanti, avanti, avanti. Vai, apro la cannella. Apri la cannella, spazzino da dentro. Sotto l'acqua? Sotto il picciolino della cannella. Sotto l'acqua. Spazzino da dentro e pulirlo perfettamente. Perché c'è la terra. Sì, sì, sì. Una volta pulito. Sì. Ora questo, se tu vuoi fare un po' di scena. Questo tu lo lasci per mettere sopra. Per passarlo per farci, se vuoi fare un po' di scena. Sì, sì. Sì, no. Tantamente sono tutti uguali. Quelli più piccini. Sì, sì, sì. Fai il solito lavoro. Sì, sì. Poi prendi un'acciatina. Lavati per bene. Metti, tanto ci fai le tagliatelle. Sì, sì. Un tagliolino. Un tagliolino, sì. Metti a sciogliere, a sciogliere, no? Il burro. A friggere il burro e un po' d'olio d'oliva. Olio, sale e penne. Questo una volta tu l'ha lavati bene, li frulli oppure pigli e lo si piaccia l'aglio. Sì, sì. Fanno frantumati più fine sia possibile. Sì, sì. Li metti. Niburro. Niburro. Lo fai scaldare, non friggere. Sì, sì. Prende il cotto, scolli la pasta, pigli il cucchiaio. Ci lo metti sopra, oltre i cucchiai, non di più, perché adesso è troppo. Sì. Tritato bene, pulito, tritato bene, messo nel burro. Un po' d'olio senza farlo friggere. Sì. E poi lo butti. Un paio di cucchiai da minestra. Mi ripaste. Alla grande. Angiolino. Se ti ci piace, ci metti anche un penne di formaggio, parmigiano. Io ce lo metto. Anch'io. Poi qualcuno dice no. No, a me piace. A peccato. Grande. 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 Eccolo, betto, ogni tartufo. Guarda bene. Provo è tartufo. Guarda bene.